Ciao a tutti ragazzi, oggi vi voglio far vedere alcune novità che sono arrivate direttamente dalla Troplant alcune piantine nuove intanto vi faccio vedere questi muschi legati sui pad da poter inserire direttamente in acquario qui abbiamo un flame moss quando crescerà diventerà molto molto bellino qui abbiamo una riccardia una porzione di riccardia ecco, spero riusciate a vederla bene una pianta bellissima poi abbiamo le porzioni di Christmas moss il muschio di Natale e poi abbiamo tantissime cap allora, spero riusciate a vederle le piantine, proviamo a toglierle abbiamo l'alternantera Ocifus bella, un po' rossina poi ad esempio, non ve le faccio vedere tutte, solo alcune l'apogostemon l'echinodorus tenellus queste piantine in cap hanno una resa fantastica sono delle piante molto sane magari un giorno vi faccio vedere come si tolgono dalla cap come si toglie il gel e come si inseriscono in vasca qui abbiamo una fantastica callitripoides e meantus callitripoides per creare un bellissimo pratino poi abbiamo la littorella anche questa per fare dei bei cespuglietti poi abbiamo l'ammania bonsai con queste foglioline piccine piccine è veramente deliziosa e poi ad esempio infine abbiamo la linnofila ipuroides anche questa è una bellissima pianta spero vi siano piaciute ciao a tutti